la prima volta avevo cinque anni lui era alto sottile rigido parlava di un bambino più piccolo di me che un pomeriggio trovava nel suo giardino un enorme fragola rossa credo che il bambino si chiamasse celestino aveva di sicuro gli occhi azzurri non era un tipo sveglio ma lo stupore la gioia nei suoi occhi rotonde l'allegria del prato selvatico vi facevano stare bene ero innamorata di quel libro restò al sicuro a casa di mia madre fino a quando lei non morì e la casa fu svuotata lo portai a milano e lo consegnai solennemente alle mani di mia figlia che aveva più o meno l'età di celestino dopo qualche anno in uno dei suoi risoluti cambi di pelle di lettrice emilia lo mise in uno scatolone che finì in cantina che come tutte le cantine si allagò e fu così così che il mio primo amore andò al macero daria bignardi i libri che mi hanno rovinato la vita in un'altra parte